Lavori in corso per il litorale di Francavilla al mare. 8.000 metri cubi di sabbia per il ripascimento delle spiagge causato dall'erosione della costa. Un lavoro di grande valore economico per una città che vive il turismo come fondamentale risorsa. L'impegno economico è di 80.000 euro e i lavori sono quasi conclusi. Iniziamo ad andare in sofferenza le attività balneari, quindi grazie a un finanziamento che ci ha concesso la regione Abruzzo riusciamo a portare 8.000 metri cubi di ripascimento. Abbiamo individuato le tre zone maggiormente critiche, quindi una zona a sud a confine con Ortona, la zona centrale dove siamo in questo momento e la zona nord a confine con Pescara. 10 euro a metro cubo, questo è il costo dell'opera che ha provvisto ad adoperare prima le manovre di scavo e spianamento, poi il trasporto della sabbia e prima di questo l'intervento del comune che ha provveduto a rinforzare le scogliere e frangiflutti per limitare l'erosione. 8.000 metri cubi messi su questa attività, questa notte sono proseguiti i lavori senza sosta, penso che termineranno nel giro di 3-4 giorni, devo ringraziare tutti perché c'è stata la collaborazione oltre che della regione e della Capitanale di Porto, il Comandante Moretti, ma anche delle opere marittime con Visca, di uffici comunali e persino i balneatori che si sono adoperati e si sono resi tutti disponibili. è stato un gioco di squadra fatto in pochi giorni, velocemente e in maniera molto efficace.